meraviglioso meraviglioso perché guarda che in questi anni che io sono mancato dall'italia e da napoli hanno voluto dire delle cose che io mai ho detto ho parlato con nessuno e la gente di napoli ha creduto in me e questo ai genitori che lasciano giocare divertirsi però che non ne mettono addosso di essere maradona perché maradona già è stato loro devono essere prima comandati per i suoi genitori dopo viene il calcio perché il calcio se non diventa maradona dopo che non è più il tuo figlio no a minimo